Andrea Rompianesi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e grazie per il nuovo invito. E benvenuto, anzi bentornato qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole. Ci siamo trovati qui a raccontare il libro precedente lo scorso anno, il libro intitolato Tracce di pellicola da film sulla costa di Ponente. E direi sulla costa rimaniamo perché il nuovo libro si intitola Riviere. Andrea Rompianesi, poeta, pubblica questo nuovo libro intitolato, come dicevo poco fa, Riviere, dalla casa editrice, punto a capo, la casa editrice piemontese della provincia di Alessandria. E adesso, Andrea Rompianesi, andiamo a conoscere, ma non troppo, come sempre diciamo noi nel nostro appuntamento, perché amiamo stare sulla soglia dei libri. E quindi andiamo, andiamo a conoscere le sue nuove parole. Però prima di entrare nelle sue nuove parole, entriamo nell'immagine di Copertina. Ce la racconti? Sì, in effetti c'è questa striscia, questa linea forse, o direi, orizzontale, che occupa proprio il centro della copertina, che dà un po' l'idea del punto di osservazione. Quasi che si fosse in un punto da cui si osserva, si vedono questi due azzurri, uno più chiare, uno più intenso, che si toccano, e direi che possano proprio rappresentare cielo e mare, ecco, in questo senso. E un po', riprende forse un po' l'idea del libro che è l'osservazione, l'osservazione delle cose, degli elementi, e quindi c'è questa forte vocazione di osservare, in una condizione che è quella appunto del soggiorno, di osservare gli elementi, le cose, questa dimensione materica, nel suo puntare, in quest'idea del passaggio un po', come dico, anche nella nota redazionale, dalla potenza all'atto, ecco. Eh sì, e tra l'altro Andrea Rompionesi, oltre che essere poeta nel suo passato, è stato anche, oltre a essere poeta, ed ancora poeta, è stato anche editore, e quindi conosce il prodotto libro sia come autore sia come editore, quindi con tutti i problemi annessi e connessi, problemi come ogni ambiente di lavoro si porta appresso. Lei scrive anche per un sito di critica letteraria, scrittura nomade, ce lo vuole raccontare? Sì, è un'iniziativa legata all'amico Enea Biumi, che gestisce questo blog, che è stato tra l'altro direi molto attivo proprio dall'inizio degli anni dieci, del duemila, infatti è iniziata la mia collaborazione in quel periodo, ed è stata piuttosto fruttuosa, perché io mi sono trovato già alla fine degli anni dieci, con un periodo appunto intenso di interventi, di recensioni, e verificando un po' mi sono ritrovato con più di cento recensioni realizzate a libri usciti in quegli anni, recensioni a più di 80 autori, perché alcuni hanno avuto recensioni a più titoli, tant'è vero che l'idea è stata poi quella di raccogliere queste recensioni, quindi se tutto va bene, il prossimo anno, marzo-aprile, dovrebbe uscire un libro che le raccoglie, che proporrà l'amico Michele Toniolo, dell'Amos Edizioni di Mestre, il lavoro era piaciuto anche da Arnaldo Colasanti, che collabora con la sigla, e quindi dovrebbe essere proprio l'uscita del prossimo anno, diciamo una novità, perché non si tratta ovviamente di rientriamo nella saggistica, perché io ho pubblicato sempre Poesie e Prosa, tra l'altro questo libro Riviera è il trentesimo edito, però l'anno prossimo potrebbe essere un discorso di appunto nuovo, con questa raccolta di recensioni. E come si sta, come si sta, Andrea Rompionesi dopo trenta libri di poesie? Poesie e prosa, è tra poesie e prosa, ma si sta, si sta, non lo so, e ovviamente, come si sa bene, non è mai un discorso quantitativo, quello che conta è il discorso qualitativo, però certo si riflette, si fa un po' un bilancio, si cerca un po' di vedere quello che è stato, insomma, ecco il percorso è stato nuovo, perché il primo libro è dell'86, quindi insomma, poi soprattutto forse si pensa anche di più, avendo avuto comunque una situazione di ruolo professionale, cioè io mi sono sempre mosso in questo settore, appunto come diceva lei, la casa editrice, ma anche come operatore culturale per l'organizzazione eventi, quindi tutto un discorso legato al libro e con tutte le problematiche relative. Come autore, beh, un percorso, ecco un percorso, a volte è difficile, puoi riflettere anche sull'età, io ho realizzato sempre tappe, anche questo mi è stato riconosciuto, anche molto diverse tra loro, sempre nell'idea, ecco sì, questa sì costante, di vedere la scrittura come una ricerca, una ricerca nel linguaggio e di conseguenza anche un approfondimento poi nel significato. A proposito di significato, andiamo a cercare e trovare i significati delle frasi che lei mette in esergo di Pablo Neruda, Clemente Revora, Domenico Cara e poi girando pagina Vittorio Sereni. Che cosa lega queste citazioni? Ma penso qualcosa che richiama aspetti di, direi, di luminosità. Sereni è un autore poi soprattutto che mi ha particolarmente colpito, io ricordo la lettura del suo Stella Variabile, proprio all'uscita, e qui si parla dell'estate, altri autori, Cara l'ho frequentato, un autore secondo me molto significativo, molto anche appartato per certi aspetti nel suo percorso, ma di grande interesse. Forse qui ecco il punto in comune è ritrovare un aspetto che si muove al riferimento agli spazi di soggiorno, ecco, dove poter osservare, riflettere, e chiaramente l'ambiente che in qualche modo evoco si collega al mare lascia aperta questa prospettiva, anche per motivi forse personali, c'è un aggancio ancestrale a un rapporto con un elemento che dà questo senso di apertura, di prospettiva. Però qui le riviere sono plurali, anzi, come dice lei, sono multiple, aprendo una poesia. Sono multiple, è vero, sia in senso letterale, perché si fa riferimento a soggiorni di età già matura, non dell'infanzia, dell'adolescenza, ma comunque in due contesti diversi, ma anche multiple perché a mio avviso qualcosa è il luogo e qualcos'altro è ciò che si interpreta di quel luogo. Quindi la riviera, io penso in questo caso, è multipla perché è un punto d'osservazione su più piani e quindi le cose forse nell'interpretazione e anche nell'interpretazione dei tempi poi si moltiplicano. E questo libro comincia con questo verso, passo per questo disinvolto cifrario e si chiude con quest'altro verso, della mia birra quieta. Andrea Rompianisi, questi due versi, passo per questo disinvolto cifrario della mia birra quieta, in un certo qual modo questi due versi si parlano, il primo e l'ultimo. Ah, mi fa piacere questo perché lei avrà visto che c'è questa brevissima nota iniziale che dice che il libro che è costituito da quattro sezioni, le prime tre sono state scritte nel 2007, la quarta, l'ultima, nel 2023, quindi con una distanza di tempo enorme. Questo sarebbe lungo a spiegare tutti i vari motivi, però il fatto che lei abbia individuato questo collegamento vuol dire che anche con questa distanza di tempo si parlano, riesce a crearsi un collegamento, anche perché questo è stato possibile, ovviamente il testo era costituito in un primo tempo soltanto dalle prime tre sezioni, poi quando io l'ho ripreso pensando a una possibilità di pubblicazione ho sentito questa necessità di un ulteriore tassello, la quarta sezione che faceva riferimento e che fa riferimento a un periodo successivo. Però ecco, con questo punto di contatto, la possibilità che poi c'è stata di aggiungere alla quarta sezione è anche che le prime tre, come avrà visto, nonostante siano state scritte nel 2007, hanno comunque delle caratteristiche dal punto di vista proprio della costruzione del testo sulla pagina, alcune caratteristiche diverse, questo ha permesso quindi più facilmente di aggiungerne una quarta ancora diversa. Poi, come dicevo, come dico nella nota redazionale, forse l'aspetto proprio del correlativo oggettivo ha poi creato quell'aggancio, quella linea, quel filo che ha collegato le quattro sezioni, anche se hanno appunto caratteristiche diverse dal punto di vista tecnico. E adesso andiamo ad ascoltare la sua poesia ed è una poesia su cui poi andremo a vedere la sua, la costruzione, non solamente dal punto di vista della parola ma anche dal punto di vista estetico per certi aspetti. Quale poesia ci fa ascoltare? Ma potrei, era anche la prima della prima sezione già che è stato nominato, un verso, anche se ecco nella prima sezione c'è questa caratteristica di presenza delle parentesi, io dico sempre che la poesia deve essere vista anche sulla pagina perché la abita e quindi ha una sua valenza anche visiva e grafica. Comunque qui ecco, penso, però posso leggerla. Certo. Passo per questo disinvolto cifrario. Ecco, soggiace di uturna stagione infissi costrutti ben altri l'aurora dracena s'appisola d'arsena in urba moto con tattile rivolta espansa. Ora, proprio questa poesia ci permette di entrare come avranno sentito i nostri ascoltatori proprio questa questa armonia questo ritmo in sostanza questa architettura questa architettura testuale su cui lei indugia. ecco, ci vuole raccontare in che modo possiamo entrare dentro questa architettura? Sì, non è infatti sempre facile perché per me a volte qualcuno può dire testo complesso ecco, siamo sempre al punto di come si considera la scrittura io considerandolo ovviamente nel mio piccolo una ricerca nel linguaggio per me è molto importante l'aspetto specifico del termine che di solito sorge per lo più spontaneo molto probabilmente richiamato proprio da come diceva lei dal flusso fonetico ecco, questo elemento che è il suono delle parole danno quella possibilità di coinvolgimento ora il problema è poi la realizzazione dell'equilibrio significante significato cioè quando quel significante quella parola riesce ad essere talmente adeguata direi non dico esatta ma comunque giusta per poi evocare o per permettere quell'interpretazione quell'approfondimento che è al di là spesso della mia intenzione del significato immediato del significato più comune o quotidiano quindi è un tentativo di costruire quello strumento in grado di andare oltre non è mai per me un discorso solo ad esempio sperimentale ma al punto di ricerca io faccio molta differenza tra sperimentale e di ricerca perché lo sperimentale secondo me si ferma molto spesso al significante alla parola più in un'ottica o ludica o eversiva come lo è stato anche nella storia della letteratura la ricerca invece ha una finalità filosofica e questo però chiaramente comporta poi tutte le difficoltà anche spesso di un linguaggio che non sempre è così immediatamente decifrabile allora ci vuole quella disponibilità no quella quell'essere conquistati ecco in questo caso come diceva appunto anche lei dal suono e quindi essere in questo modo coinvolti e allora ci coinvolga ci coinvolga ancora Andrea Rompianesi con quale parole un altro posso leggere un altro testo forse dalla seconda sezione magari il primo le ricordate avute insenature o golfi saliscendi vegetali anemoni segugi addentro ipotecato dove moto delle pale con certa volo prova liquido emissario apposto alla frontiera e la terza la terza parte di questo libro è la parte se vogliamo almeno per noi lettori che non siamo così avvezzi a leggere la poesia in forma diversa e la terza parte di questo libro Riviere di Andrea Rompianesi pubblicato da Punto a Capo ci porta a uno stupore di poesia dico stupore perché perché una poesia che anche dal punto di vista poco fa si parlava dell'architettura dell'estetica anche da quel punto di vista ha qualche cosa di nuovo da dirci e che cosa? è vero è vero perché la terza sezione è un po' particolare le poesie qui sono costituite come si può avere come avrà visto da un unico verso lungo che praticamente abita il centro della pagina in un senso orizzontale quindi in questo richiama un po' anche la linea orizzontale della copertina e il verso quindi va poi quasi a collegarsi con quello a fronte in una sorta di filo se vogliamo linguistico appunto orizzontale si distingue ad esempio proprio dalla seconda parte dove invece la formula era quella di un certo verticalismo qui invece proprio lo sviluppo in effetti è orizzontale quindi diventa una lettura che procede in altro in altro modo ecco sì allora procediamo in altro modo ce la faccia ascoltare sì allora ne leggo solo alcune prime per dare un'idea acque e orighe prospicenti linee rive glauche ombre cime bianche leve vele riproponenti luci drappeggi buchi poggi oggi aghi di pino conifere selvatiche sassi rampicanti dove tenuti così è la poesia che si svolge in un filo continuo in una matassa che si sbroglia parola dopo parola è questo anche il senso che noi abbiamo trovato e ritrovato nella lettura dico ritrovato perché c'è anche un certo legame al libro precedente nelle poesie di Andrea Rompianesi nel libro pubblicato dal caso editrice della provincia di Alessandria appunto a capo ma prima di salutarci invece Andrea Rompianesi qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Io di solito porto avanti letture di poesia prosa e saggistica e quindi ho appena concluso di leggere un testo interessante di poesia di Daniele Pericone corpo contro anche perché poi ne ho realizzato la recensione sempre riferendosi al blog di cui parlavamo prima di Biumi poi per la narrativa beh per la narrativa l'ultimo di Domenico Starnone Il vecchio al mare e per la saggistica beh sono all'interno dei meandri di un libro che tra l'altro so che è stato anche proprio presentato nella sua rubrica Metafisica concreta di Cacciari eh sì è un libro a dir poco complesso Metafisica concreta e nonostante quell'aggettivo concreta è veramente complesso ma d'altra parte d'altra parte la filosofia deve anche portarci su quei terreni accidentati no? ed è la complessità proprio per sollevare altre domande intanto grazie grazie davvero Andrea Rompieresi grazie a lei grazie a lei ancora a Rucentici grazie davvero buongiorno grazie a tutti saluto grazie a tutti